Quando arriva un attacco di cuore nelle donne non è sempre lo stesso che negli uomini. Le donne non sempre hanno gli stessi sintomi classici dell'attacco cardiaco degli uomini, come un lancinante dolore toracico che si irradia da un braccio. Quei sintomi di attacco cardiaco possono certamente accadere anche alle donne, ma molte di loro hanno sintomi vaghi o addirittura silenziosi. Questi sono i sintomi insoliti di attacco di cuore che tutte le donne dovrebbero conoscere. 1. Dolore al petto o disagio Il dolore al petto è il sintomo più comune di attacco cardiaco, ma alcune donne possono sperimentarlo in modo diverso rispetto agli uomini. La donna può sentire come una compressione o pienezza e il dolore può essere ovunque nel torace. Non solo sul lato sinistro. Di solito ci si sente veramente male. Durante un attacco di cuore, dice il cardiologo Rita Redberg, MD, direttore dei servizi cardiovascolari delle donne presso la University of California San Francisco. Ci si sente come in una morsa che stringe. 2. Dolore alle braccia, alla schiena, al collo o alla mascella Questo tipo di dolore è più comune nelle donne che negli uomini. Può confondere le donne che si aspettano che il loro dolore sia focalizzato sul petto e sul braccio sinistro, non sulla schiena o sulla mascella. Il dolore può essere graduale o improvviso e può diminuire lentamente prima di diventare intenso. Se stai dormendo, può svegliarti. Si dovrebbe comunicare eventuali sintomi non tipici o inspiegabili in qualsiasi parte del corpo al medico o altri professionisti del settore sanitario, dice il cardiologo Noel Berry Mertz, MD, direttore del Barbara Streisand Women's Heart Center presso il Seders-Sinai Medical Center di Los Angeles. 3. Dolore allo stomaco. A volte le persone confondono il dolore allo stomaco che segnala un attacco di cuore con il bruciore di stomaco, l'influenza o un'ulcera gastrica. Altre volte le donne sentono una grave pressione addominale che le fa avvertire come un elefante seduto sullo stomaco, dice il cardiologo Nietzsche Goldberg, MD, direttore medico del John H. Tisch Center. For Women's Health presso il NYU Langone Medical Center di New York. 4. Mancanza di respiro, nausea o stordimento. Se hai problemi di respirazione causato da nessun motivo apparente, potresti avere un attacco di cuore, specialmente se hai anche uno o più degli altri sintomi. Può sembrare di aver corso una maratona, ma non hai fatto una mossa, dice Goldberg. 5. Sudorazione. Avere un ispiegabile nervoso sudore freddo è comune tra le donne che stanno avendo un attacco di cuore. Si penserà che la sudorazione sia legata allo stress e all'esercizio fisico o al clima esterno. Fatti controllare se in genere non sudi in questo modo. E non c'è nessun altro motivo per cui accade. Come il calore esterno o vampate, dice Barry Mertz. 6. Affaticamento. Alcune donne che hanno attacchi di cuore si sentono estremamente stanche, anche se sono sedute ferme o non si sono mosse molto. I pazienti spesso si lamentano di una stanchezza al petto, dice Goldberg. Dicono di non poter fare attività semplici come andare a piedi in bagno. Se ti piace il video, dagli un pollice alto e condividilo con i tuoi amici.